Soprallugui del sottosegretario dell'infrastruttura Simona Vicari in provincia di Raguse per monitorare l'andamento dei lavori dei lotti Rosolini-Modica dell'autostrada Siracusa-Gela. Secondo le previsioni, l'autostrada dovrebbe essere pronta nel 2019. Nel pomeriggio l'esponente di governo ha poi fatto tappa a Vittoria dove è stata ricevuta in municipio dal sindaco Moscato. Un incontro proficuo a tutto campo, con particolare attenzione ai progetti di riqualificazione e valorizzazione rispettivamente di Piazza del Popolo e Lungomare di Scoglitti. Abbiamo fatto un giro di perlustrazione soprattutto per le infrastrutture legate a questo territorio, essendo assolutamente consapevoli che il PIL che viene prodotto dal turismo, dai beni culturali e anche dalle ricchezze della Sicilia non è ben sfruttato e non dà il massimo di quello che potrebbe dare per una carenza infrastrutturale. Normalmente si crea un'infrastruttura laddove c'è una domanda. Noi in questo caso vorremmo creare comunque delle infrastrutture a servizio di questo territorio che poi crea una domanda, quindi promuovere il territorio indipendentemente dalla richiesta che oggi viene fatta, essendo consapevoli che più vendiamo questo territorio servito bene, meglio e più cresce la domanda. Nel comune di Vittoria in particolar modo perché è un comune impegnato a un'amministrazione giovane, un'amministrazione fresca, con grande volontà di fare. Sia il sindaco che il vice sindaco, la Rosa, sono venuti a Roma, al ministero, hanno chiesto alcune programmazioni e possibilità di interventi da parte del governo nazionale e poiché noi vogliamo dare questo tipo di risposta stiamo ragionando insieme su cosa è prioritario e cosa è compatibile con i finanziamenti dello Stato.